Oggi abbiamo una chicca per voi, ricette deliziose adatte ai diabeti. Sia che stiate gestendo il vostro diabete o che siate alla ricerca di opzioni più salutari, tuffatevi in alcune delizie ricche di sapore. Cucinare per i diabetici non significa sacrificare il gusto. Si tratta di abbracciare un mondo di ingredienti freschi e sani che sono deliziosi e aiutano a mantenere un livello di zucchero nel sangue equilibrato. Oggi prepareremo delle ricette che fanno bene sia alle papille gustative che alla salute. Iniziamo la giornata con una colazione ricca di energia. Dai sostanziosi fiocchi d'avena con frutti di bosco freschi a una frittata ricca di verdure, vi proponiamo una colazione che mantiene alta l'energia senza picchi glicemi. Quando è il momento di mangiare, avete bisogno di qualcosa di soddisfacente adatto al diabete. Il nostro menù comprende un'insalata di quinoa colorata con pollo alla griglia e una vinaigrette piccante. È una festa per i sensi senza compromettere la nutrizione. L'ora dello spuntino ha appena cambiato aspetto. Prepariamo ceci croccanti arrostiti e un delizioso parfait di yogurt con noci e frutti di bosco. Questi spuntini non sono solo deliziosi, ma aiutano anche a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue tra un pasto e l'altro. Alla fine della giornata, è il momento di una cena sana. Unitevi a me in cucina per preparare un succulento salmone al forno con contorno di verdure arrosto. È un modo delizioso e ricco di sostanze nutritive per concludere la giornata. Chi dice che il dessert è vietato? Chiudiamo il nostro viaggio culinario con un dessert senza sensi di colpa, la mousse di cioccolato e avocado. Cremosa, ricca e priva di zuccheri raffinati, è il dolce finale perfetto per qualsiasi pasto. Prima di provare queste ricette, ecco alcuni consigli essenziali per una cucina adatta ai diabeti. Concentratevi su alimenti integrali e non trasformati, controllate le dimensioni delle porzioni e sperimentate con erbe e spezie per esaltare il sapore senza zuccheri aggiunti. Si conclude così la nostra sessione di ricette adatte ai diabeti. Se vi sono piaciute queste creazioni culinarie, non dimenticate di abbonarvi, di dare un pollice in su a questo video e di condividerlo con chiunque possa apprezzare un pasto delizioso e sano. Alla prossima volta, buona cucina e ricordate, il buon cibo è per tutti!